45.000 visitatori, 5.000 piatti serviti, 250 espositori e 300 artigiani del gusto e chef. Questi i numeri di Golosaria 2014, l'evento che da 9 anni ormai riunisce i golosi della vita a Milano. Dall'area barbecue alla cucina da strada, dai vini più pregiati al dio cioccolato. Serviti e soddisfatti tutti i palati, un'occasione unica per conoscere innovazioni, tendenze, ma anche quelle buone cose immutabili che raccontano l'Italia. Un'esperienza completa di variazione degli alimenti, di scoperta di nuovi alimenti che addirittura sono curativi. Voi avete in Calabria l'Annona. Quanto si è parlato dell'Annona in questo mese? Chi ha preceduto Golosaria? Quanta attesa ha creato? È stata lanciata qui la confettura di Annona. Ma c'è anche il progetto Amati, che significa curarsi mangiando. Da Golosaria partono tanti progetti che vogliono dare valore aggiunto ai territori. Grazie a tutti.